Ben ritrovati amici bianconeri, un saluto dal vostro BJ, buona domenica a voi amici juventini e amici che non siete anche juventini, buona domenica anche a voi. Oggi giochiamo per il nulla, oggi giochiamo a vuoto, Juventus-Napoli, ormai sappiamo tutti, stiamo giocando contro un sistema organizzato per fare fuori la Juventus. Purtroppo c'è un po' di scoraggiamento, giocare, tanti tifosi ormai pensano dopo, dopo la grazia ricevuta di Lukaku, del presidente della FIGC, nonché vicepresidente dell'UEFA Gravina, ormai siamo pronti a tutto, siamo pronti ad ogni ingiustizia. Io non so, restamente, oggi come scenderanno i giocatori in campo, se questi giocatori avranno ancora di giocare in Serie A, se avranno ancora voglia di giocare a calcio. Signori, dopo ieri il calcio è letteralmente morto, letteralmente morto, ma noi proviamo a parlare di calcio, proviamo quali sono le scelte di Allegri per Juventus-Napoli. Quindi, prima che approfondiamo questo discorso, cari amici giumentini, vi invito come sempre, amici giumentini e nonne, iscrivetevi al canale perché è gratis, sostenete me, sostenete il canale e sostenete la Juventus-Napoli, perché sono sempre qui per difendere la Juventus. Forse lasciate un like, commentate e attivate la campanellina, così non vi perdrete mai un video e siamo sempre live! Le esigenciate, madame, messia, signore e signore, ma i signori, quelle vere, quelle gobbi, bianconiere della vecchia signora, rieccoci qui! Un giorno sì, un giorno! Allora, da premettere una cosa, la Juve mercoledì si giocherà una partita molto importante, forse più importante di Juventus-Napoli, che è la semifinale di ritorno di Coppa Italia. La Juve può avere l'accesso alla finale di un trofeo che la Juve può ancora vincere, però siamo sempre lì, signori mei, ma siamo sicuri che la Juve giocherà contro l'Inter o giocherà contro tutta la federazione, giocherà contro tutta la FIGC, perché ormai i miei dubbi ce l'ho. Io dopo ieri, onestamente, sono molto, molto scoraggiato. Io sono stato sempre qui in prima linea a difendere la Juve, ma dopo ieri ho capito che ormai la Juve è contro tutti. Oggi c'è questa partita, Juventus-Napoli, partita di cartella a vederla, è Juventus-Napoli. La Juve deve, in un certo modo, vendicare la figuraccia dell'andata del 5-1. Un 5-1, ripetiamo amici juventini, caratterizzato dalla penalizzazione ingiusta ricevuta dalla Juve, una Juve che da quel momento in cui non è più riuscita ad alzarsi. Se non in qualche occasione, proprio perché la Juve a volte, come dire, esce dall'acqua per prendere il respiro, ma dopo di ciò ci hanno annegato veramente con la penalizzazione. Poi ci tolgono la penalizzazione, ma ci rinviano il processo, ancora un'altra ingiustizia, per poi finire un ciclo di ingiustizie con la grazia a Lucaco. Lì, purtroppo, siamo ormai veramente in ginocchio. Vediamo come alzarci, vediamo come alzarci. Oggi intanto è Juventus-Napoli, signori miei. Vediamo se Allegri farà respirare un po' di giocatori in vista della semifilare di Coppa Italia, oppure metterà una top 11. Vi dico subito, Allegri oggi mette la sua top 11. Che piaccia o no, lo schema è ancora un 3-5-2. Un 3-5-2, che poi in fase difensiva si trasforma in un 5-5 allegriano. Purtroppo, ragazzi, è così e non c'è niente da fare. Poi c'è Chichesni fra i pali, difesa a tre con Gatti che prende il posto di Bremer. Danilo, Alexandro, centrocamba 5. I soliti due esterni, Costici, Quadrado. Centrocamba 3, Tornafagioli, titolare, insieme a Rabiot e Locatelli. Coppia d'attacco, tra virgolette, soppresa. Milik in coppia con Vlaucci. Speriamo che Vlaucci riesca a sbloccarsi e a farci qualche regale in questo finale di stagione che avete la Juventus in due semifinali di Europa League Coppa UEFA e una semifinale importantissima. Ritorno a Sanzino di Coppetala contro l'Inter. Noi veramente stiamo pregando tutti per Vlaucci. Questo giocatore ormai che non riconosciamo più da quando è venuto dalla Fiorendina. Un giocatore che sbaglia gol a portavoto, un giocatore che sbaglia stop, un giocatore che sbaglia tutto. Speriamo che questo finale di stagione, speriamo che con l'arrivo di maggio, come dire, con l'arrivo della preestate questo qua gli si riscalda di più il cuore, gli si riscalda di più il piede e inizia a fare qualche gol. In più, ce l'auguriamo veramente tutti perché onestamente vedere Vlaucci in queste condizioni fa male a tutti ma fa male soprattutto alla Juve, una Juve che non segna più, una Juve che fa fatica a segnare, una Juve che veramente non puoi giocare, giocarti due semifinali di Europa League, una semifinale di Coppetala e un finale di stagione di campionato importante, tra virgoletti, salvo ingiustizie, di arrivare tra le prime quattro ma bisogna fare gol. Quello che manca oggi la Juve è fare gol, manca il gioco, lo sappiamo tutti che manca il gioco ma lì purtroppo ragazzi ormai non sperate che a maggio arrivi il gioco. Io ormai spero una cosa, giocando male vincere il più possibile, se poi mi portano un trofeo giocando male me ne frego, questa stagione deve togliersi dalle scatole per non dire dai palloni. Detto molto, come dire, con un po' di eleganza, voglio che questa stagione finisce subito. Proprio si chiude questa stagione nera che poi arrivano uno o due trofei, vengono e vengono, anche giocando male me ne frego. Ragazzi, oggi parliamoci chiaro, diciamoci la verità. Oggi più, che è importante, vincere un trofeo, vincerne due e vincere la battaglia, vincere la guerra contro il sistema che ormai si è schierato contro la Juventus. Un sistema che sembra non avere fine un sistema che vuole la Juve in ginocchio, un sistema che vuole la Juve a tutti i costi fuori dalle coppe fuori addirittura dai giochi, fuori dai giochi in ogni caso, non mi viene la parola, in ogni caso non ci vogliono più fra i piedi. Purtroppo è così, ragazzi. Oggi il calcio sta passando a tutti la voglia e non vi nascondo che dopo ieri la voglia è passata anche a me, quasi. ragazzi, io che sono nato insieme alla Juve, io che canto il coro della Juve, quello che dico che sono cresciuto con te e non c'è donna che possa competere, non c'è stella che brilla più di te. Ragazzi, mi sta passando la voglia, mi sta passando la voglia. Veramente, ormai il calcio non è più calcio, ormai è un potere di soldi che va contro la Juventus. Oggi andrà a giocare questo Juve-Napoli per cosa? Per cosa? Tanto ci aspetteremo qualche ingiustizia, tanto ci aspetteremo qualche, come dire, qualche rigore inventato, ci faranno dei fallacci, 90 minuti, non ne fischieranno una, ci faranno innervosire, cercheranno che ci innervosiamo e becchiamo un doppio giallo, ci fanno qualche giocatore fuori. Signori, signori miei, la verità è soltanto una. Se oggi battiamo il Napoli e la Juve non gli tagliavano le gambe. Questo campionato poteva prendere una piega diversa, ma con i sé e con i ma non si va da nessuna parte. Noi non siamo Simone Inzaghi, che sempre cerca calugne per dire, ah, se giocava, ah, se non giocava, ah, se ci dava, ah, se non ci dava, no. Questo Juve ha avuto sicuramente un annientamento pericoloso dal sistema calcio che ci ha tagliato le gambe la mente e poi abbiamo delle situazioni interne che non vanno assolutamente bene tra mistero e giocatori, questo sicuro. Ma ormai ve l'ho detto già, non mi interessa più giocare bene, voglio vincere. In qualsiasi modo. 90 minuti, un tiro in porta, vinciamo, portiamo la porta a casa, bene, sono felice. Ormai c'è poco da sperare al gol. Qui si gioca un gioco ancora più pericoloso. Juventus contro FIGC. Una guerra che non finisce mai. Una guerra che sta, prima di tutto, facendo male ai tifosi. Ci sta facendo male, non c'è più credibilità nel calcio. Io non so come ripeto, io non so come dirlo. Ma purtroppo non c'è più credibilità in questo calcio. Come fai a giocare un giocatore che prende una doppia munizione? Deve essere squalificato il presidente della FIGC lo grazia. E allora come finirà? Che ognuno che prende una doppia munizione fa il ricorso e chiede al presidente dammi la grazia? Non esiste. Non esiste quello che è successo. Allora aveva ragione Giraudo quando ha detto. I veri malfattori arriveranno dopo di noi. Ebbene sì, aveva ragione allora Giraudo. Quando ha detto quella frase nel 2006. E allora aveva ragione. Perché onestamente quello che sta succedendo ora allontrerà tutti dal calcio. I tifosi dell'Inter, del Milan, del Napoli. Oggi festeggiate che la Juve sta subendo tutto ciò. Ma domani toccherà a voi sicuramente. E quando toccherà a voi cosa succederà poi? Cosa succederà? Chiuderemo questo calcio. Svegliamoci tifosi perché questo sistema deve cambiare. Perché siamo stanchi e stufi. Stanchi e stufi. Anche perché gente come me investe tanti soldi per seguire la Juve. E seguire la Juve per vederla subire ingiustizie, per seguire la Juve, per non sapere se la Juve arriva secondo, arriva terza e poi ti fanno arrivare sesta, settima, ottava per la pena afflittiva. Onestamente questo non è calcio. Questo è ingiustizia, signori miei. Vincere l'Europa League, bene, però lui forse te la toglie. Ma di cosa stiamo parlando? Ma voi avete ancora voglia di guardare questo calcio? Io onestamente mi sta passando la voglia, ma starò sempre però qui a difendere la Juve finché posso. All'ultima forza che avrò, tutte le forze che avrò, li concentrerò finché la Juve riuscirà a sconviggere questo sistema, signori miei. Oggi è dura, oggi è dura, ma dobbiamo farcela. Signori miei, ci vediamo, penso, penso, questa sera alle 23.30 perché faremo una live, una live con Omar Ragresti e Raffi Juve. Allora, poi domani, highlights e golli della partita allo Juventus Stadium. Fino alla fine, forza Juventus, io mi ne voglio. O sabbiatevi a tutti i picciotti. Ciao!